Buonasera, ben ritrovati da intorno alle 9. Guardare la città da un'altra prospettiva può aiutarci a capire di più della nostra storia e della nostra comunità. Se poi questo avviene in luoghi insoliti o generalmente chiusi al pubblico, ecco che davvero tutto diventa magico. E questa è la mission dell'Associazione Arte Mia. Abbiamo il piacere di avere con noi la Vice Presidente Arianna Pierattoni. Buonasera, benvenuta. Allora Arianna, facciamo un passo indietro per chi ancora non conoscesse Arte Mia. Nel 2008 sei giovani laureate in storia dell'arte si incontrano e decidono di fare della loro passione una missione. Cosa succede? Allora noi siamo nate in realtà all'interno degli Amici di Musei di Prato. L'allora Presidente Franco Gravina, che non smetteremo mai di ricordare e di ringraziare, fu lui appunto a suggerirci di fare un'associazione proprio per promuovere la conoscenza della storia, delle bellezze storiche artistiche di Prato. Noi abbiamo colto questa occasione e da allora appunto è ciò che cerchiamo di fare. E di strada ne avete fatte davvero tanta perché non vi siete mai fermate in questi anni. Visite guidate, corsi, didattica nelle scuole, laboratori. Quindi chi sono diciamo le persone interessate alle vostre attività? Vogliamo tracciare dei profili? Certo, allora a volte abbiamo a che fare ovviamente con i turisti classici che vengono da tutta Italia, però più spesso, come noi sottolineiamo, abbiamo proprio a che fare con i pratesi. Perché spesso viviamo in questa città ma a poco ci interroghiamo sulla sua storia, a poco la conosciamo e allora la vogliamo far conoscere a loro. Per esempio abbiamo riscontrato che fino a una certa età si tende a pensare ad altro, a frequentare altri luoghi, purtroppo, diciamo così. Però non lo so, all'incirca verso i 40 anni scatta qualcosa, nasce una voglia nuova, un appassionarsi rinnovato verso la propria città e allora in effetti si comincia a cercare le visite guidate e quindi il nostro pubblico ha prevalentemente questa età, fino anche ovviamente appensionati, ogni tanto anche qualche giovane si spera di vederli sempre più spesso. In generale però non è mai troppo tardi per interessarsi alla città in cui si vive. Ci sono diciamo dei cavalli di battaglia che portate avanti anno dopo anno, quindi visite che riproponete e che suscitano davvero molto interesse. Una fra tutte penso alla cattedrale segreta. Esatto, in collaborazione con la diocesi e col capitolo. Il percorso è veramente molto interessante, si parte dalla cappella della Sacra Cintola, già questo è un luogo difficile insomma ad accedervi senza la nostra visita, e poi si fa il percorso che il vescovo fa durante l'ostensione, quindi si arriva all'altezza del pulpito, non si può ovviamente salire sul pulpito, però noi apriamo le porte e vi posso assicurare che già guardare la piazza da quel punto di vista è veramente un'emozione unica e non finisce lì perché poi si sale ancora al piano di sopra e si va a vedere l'antica facciata romanica nascosta lì da secoli che ci aspetta. Che molti magari non conoscono. Che non conoscono, esatto, perché appunto il Duomo di Prato ha in realtà due facciate. Ecco, questo lo facciamo ogni secondo sabato del mese, quindi ovviamente vi aspettiamo anche questo sabato se volete venire, ci sono due turni di visita alle 10 e mezzo, alle 16 e se no poi tutti gli altri mesi anche nel 2020. Le meraviglie del nostro Duomo ma anche i bastioni, bastioni che vi permettono appunto di scoprire anche una prato segreta, una prato nascosta. Sì, sicuramente nascosta è più perché i bastioni, quelli a parte il bastione delle Forche che è comunale, gli altri tre rimasti sono privati, quindi sicuramente non sono normalmente accessibili. E però noi ogni anno appunto li andiamo a visitare. Quello di Santa Chiara con la Fondazione Santa Rita, poi quello di Santa Trinita e soprattutto quello di San Giusto vicino all'ingresso del vecchio ospedale che è forse quello che colpisce di più perché ci si passa molto spesso lì sotto, si vedono gli alberi, in tanti si chiedono cosa c'è dentro. È un'occasione, è appunto la nostra visita. E noi non vogliamo svelarvi di più perché dovete andare, ovviamente di persona. Tornando invece alla nostra cattedrale, grande emozione anche per la possibilità di salire sul campanile, quindi vedere ancora da un'altra prospettiva la piazza Duomo e davvero avere anche uno scorcio a 360 gradi sulla città. Assolutamente, il campanile del Duomo è ancora l'edificio più alto di tutto il centro storico, e quindi veramente la vista è impagabile. Lo visitiamo a partire dalla bella stagione, quindi da maggio nel pomeriggio, ma a luglio, anche quest'anno, cioè nel prossimo anno, nel 2020, faremo invece le salite di notte. Quindi c'è chi le ha fatte tutte e due perché giustamente si vuole vedere il panorama sia di giorno che di notte. Quindi lo skyline notturno. Cosa vi dicono di solito quando arrivano lassù? Una cosa che dico sempre io, sinceramente, e che poi mi danno conferma anche i nostri visitatori, è curiosare nei terrazzi. Ah, da lassù si vedono ovviamente terrazzi di cui non si ha minimamente l'idea che esistano, e poi ovviamente tutte le altre bellezze. Perché è vero che è la prato di tutti i giorni, ma vista da un punto di vista diverso, si fa a volte anche confusione, ci si orienta male, però si rimane stupiti perché è appunto un punto di vista bellissimo su tutta la città. Altro percorso che proponete riguarda un pochino più l'aspetto, diciamo, spirituale, religioso e di fede è quello dei monasteri, quindi visite guidate di approfondimento in luoghi sacri. Quali sono, ad esempio? Sì, ogni anno riproponiamo, per esempio, la visita al monastero di San Vincenzo, che ha una storia veramente molto importante e soprattutto c'è la presenza della cappella con la Madonna dei Papalini, che ha a che vedere con l'evento miracoloso del Sacco di Prato del 1512. Il monastero fu risparmiato, appunto, secondo la tradizione, proprio per la presenza di questa scultura. Ma anche, per esempio, quello di San Clemente, il monastero di San Clemente, per non parlare di quello di San Domenico, che cerchiamo sempre più, insomma, di tenere vivo, ecco, come realtà. E poi, per esempio, anche l'abbadia di San Fabiano con il seminario Vescovile, altro luogo solitamente non accessibile perché il seminario è ancora vivo, è ancora attivo, però appunto sempre in collaborazione con la diocesi possiamo portarvi a visitare anche questi luoghi. Qual è il valore aggiunto di una visita e di un'esperienza di questo tipo? Anche da un punto di vista, in questo caso, di fede spirituale, la possibilità di avvicinarsi davvero? Esatto, di avvicinarsi e poi sempre comunque di conoscere profondamente i fatti che hanno portato. Poi, per esempio, la settimana scorsa siamo andati a visitare invece il santuario della Madonna del Soccorso e anche in quel caso è stata l'occasione per ricordare il miracolo che ha dato il via alla costruzione. Il prossimo anno, nel 2020, andremo a vedere il santuario della Madonna del Giglio, ad esempio. Quindi, di nuovo un'occasione per conoscere, ecco. Anche appunto da un punto di vista culturale e artistico. Una curiosità, non solo centro storico, vi addentrate anche nelle frazioni. Un esempio su tutti, la chiesa di San Pietro a Galciana. Esatto. Cosa nasconde? Cosa nasconde? Allora, intanto è una chiesa antichissima, risale al XII secolo, quindi già per questo ovviamente ha un certo valore. Però nasconde degli affreschi della fine del Trecento molto interessanti perché abbiamo la figura di San Tommaso che ha in mano una scatolina, una scatolina che molto probabilmente era, nell'intenzione del pittore, il primissimo, uno dei primi contenitori della Sacra Cintola, perché sappiamo che Tommaso appunto è colui che riceve la cintola da Maria. E quindi, ecco, potrebbe essere stato il reliquiario precedente a quello rinascimentale quattrocentesco che è oggi conservato al Museo dell'Opera del Duomo di Prato. Quindi un riferimento anche carico davvero di significato per l'identità poi della comunità pratese. Ci portate sempre alla scoperta di luoghi che hanno un'anima, ma ci permettete di fare anche delle attività davvero divertenti in questo caso, come le visite guidate sul Gommone, sul fiume Bisenzio, che hanno riscosso anche la scorsa estate un grandissimo successo. Perché? Perché è veramente molto divertente. Grazie alla Lega Navale... Vediamo qui alcune immagini... Esatto. ...mentre si addentrano appunto nel nostro fiume. E quindi si vede una Prato di nuovo insolita, un punto di vista diverso, quando si arriva sotto il ponte Mercatale, tutti rimangono estasiati di questo ponte, perché visto da laggiù è veramente qualcosa di maestoso. È l'occasione per noi di raccontarvi di nuovo un po' della storia, delle mura medievali, anche parlare del fiume Bisenzio. E quindi poi è oltretutto un'attività molto divertente, perché appunto ti permette di navigare, diciamo così, il Bisenzio. Anche al momento del tramonto, sicuramente suggestivo nel periodo dell'estate. Assolutamente, molto suggestivo. Veramente è impensabile quanto sia bello il Bisenzio sull'ora della sera. Veramente, lo dico sinceramente. Quest'anno non sono riuscita, ma il prossimo anno mi metto già in fila. Allora, stiamo quasi alla fine della nostra puntata, ma io ne voglio approfittare per chiedervi quali altri luoghi riuscirete ad aprirci nel corso del 2020, perché so che state già guardando al calendario, giustamente, del nuovo anno. Assolutamente. Possiamo dare qualche anticipazione? Mi raccomando, segnate in agenda e da casa. Allora, intanto vogliamo invitarvi tutti, il 12 di gennaio, è una domenica, per quella che noi chiamiamo la festa di Artemia. Ogni anno cerchiamo sempre luoghi insoliti. L'anno scorso siamo stati ospiti di Palazzo Vai, l'anno precedente siamo stati ospiti invece della torre di Porta Gualdi Mare, è un passo da San Domenico, quindi anche quest'anno stiamo cercando, e siamo lì a definirlo, un luogo veramente altrettanto non conosciuto e interessante. Lì, alla festa di Artemia, noi presenteremo il calendario di tutte le visite. Adesso non sono ancora sul nostro sito, ma appunto a partire dal 12 di gennaio saranno sul nostro sito. E la cosa che posso anticipare, una piccola chicca, faremo appunto un percorso nel centro storico di Prato e andremo a visitare alcuni palazzi nobiliari, che sono chiaramente privati e quindi difficilmente si potranno visitare se non grazie appunto a queste visite. La disponibilità dei privati li ringraziamo. Assolutamente, sempre. Ovviamente, perché ci permettono ancora una volta davvero di scoprire e assaporare luoghi magnifici e bellissimi della nostra città. Grazie mille ad Arianna Pierattoni, vicepresidente dell'associazione Artemia, grazie per essere stata con noi e per il prezioso lavoro che ovviamente svolgete per tutta quanta la città. Grazie a tutti voi per averci seguito, intorno alle 9 torna domani sera come sempre dopo il nostro Tg. Restate con noi, arrivederci. Arrivederci. Grazie a tutti.